Campine Amroso, 26 dicembre 2016, siamo pronti per la partenza, raccontaci questa giornata che cosa andiamo a fare. Andiamo a Sant'Agnello, da dove partiremo poi per Meta, dove ci saranno dei gonfiabili e ci sarà una breve sosta, poi scenderemo giù al porto di Meta, faremo una foto in questa bellissima giornata di sole, proseguiremo per Sorrento, Parco Lauro, e alla fine ritorniamo a Sant'Agnello per distribuire le caramelle ai bambini con il grandissimo contributo del comune di Sant'Agnello che ringrazio personalmente. Giuseppe, stammi in diretta, scusami, allora li accogliamo questi ragazzi nella piazza Marteotti di Sant'Agnello? Come ogni anno, ormai da tradizione, è un Papo Natale particolare, è un Papo Natale in itineri, spazia un po' tutta la penicola, ma preferisce Sant'Agnello. Parte da Sant'Agnello, arriva a Sant'Agnello, lo distribuiva caramelle per tutti i bambini, è un Papo Natale un po' più particolare. È riuscito a vestirli tutti, dai genitori ai figli e anche ai loro amati animali, cagnolini a tutti. Voglio ringraziare pubblicamente sia il motoclip Passione Vespe, ma soprattutto il vero motore dell'iniziativa, che è Carmine Ambruso, di Ambro Moto, che gestisce in modo impeccabile questa manifestazione. Grazie sempre a te Peppe. A più tardi allora, ci aggiorniamo lungo il percorso. Grazie.